Tutti i segreti di Monopoly Go in un solo video, era un contenuto un po' particolare che stavo studiando da qualche giorno e ho detto Devo assolutamente portarlo alla mia community, sicuramente loro si possono divertire, è un contenuto proprio adatto Quindi l'ho studiato un attimo, ho pensato il più e il meno del cosa potessi dirvi e è uscito questo video Quindi oggi scoprite tutti i segreti di Monopoly Go Prima però, se volete supportare il canale, un bel like, un'iscrizione, un'attivazione della campanella, sono d'obbligo Vi ricordo che mi trovate tutti i giorni all'R14 qua su YouTube, ma non solo, mi potete trovare anche su Twitch, su TikTok, su Instagram Tutti i link per andarmi a seguire è proprio qua sotto in descrizione, cliccateli ragazzi perché vi saluto un sacco Prima dell'inizio del video volevo creare un po' di hype, volevo slinguazzarvela un po', volevo slinguazzarvela Allora ho detto, devo portare un attimo un contenuto su giochi di Monopoly Allora, dal set numero 5 in poi sono questi gli adesivi che mi mancano Quindi se qualcuno di voi ha interesse a supportare il canale e il mio progetto in Vapor Qua trova tutti i contenuti dedicati, secondo me sono veramente importanti E quindi se volete supportare trovate il link sotto per mandarmi i vostri adesivi Parliamo dei segreti di Monopoly I segreti di Monopoly si contengono in due posti particolari Perché allora, più o meno conosciamo tutto Sostanzialmente se clicchiamo in alto ci manda sul nostro aggiornamento patrimonio netto Quindi su tutti i prossimi livelli che possiamo sbloccare Tutte le cose che possiamo andare a sbloccare col patrimonio netto Perché ricordo che ogni livello, tra virgolette, macro del patrimonio netto ci dà dei perchi in più Poi successivamente c'è il negozio Il negozio lo conoscete meglio di me Potete sloundare sotto Si possono comprare anche i soldi con i soldi stessi Quindi è un po' un controsenso ma si può fare Qua troviamo tutte le offerte nella parte sinistra Nella parte destra tutti i moltiplicatori e i vari modificatori In particolare c'è la rapina in banca in questo caso Che ci dice la banca di Federica da 82 milioni e 4 Vai alle caselle della stazione Ruva soldi al tuo avversario Ottieni più con il moltiplicatore Successivamente c'è il tasto dell'armadietto Che potete trovare schiacciando qua sopra Ci sono le pedine, ci sono gli scudi e ci sono le emoji Ma uscirà anche un contenuto sull'armadietto di Monopoly Go State tranquilli Tre linette in alto, ci cliccate sopra E trovate innanzitutto il mio profilo Quindi te puoi selezionare il tuo avatar E questo sarà poi un contenuto che uscirà più avanti Su come cambiare nome e fare grandissime cose C'è poi il negozio Che è quello che vi ho fatto vedere prima Successivamente quindi abbiamo tolto l'avatar Abbiamo tolto il modifica nome Abbiamo tolto il negozio Continuando poi abbiamo il patrimonio netto Del quale abbiamo già parlato nella parte precedente del video Abbiamo il mio showroom che sarebbe il mio armadietto Abbiamo le chicche quotidiane Le chicche quotidiane sono le missioni giornaliere Che vengono date semplicemente entrando nel gioco Quindi tramite il login nel gioco Ti vengono accreditate le chicche quotidiane Successivamente abbiamo la mappa La mappa nella quale è contenuto il nostro percorso in ascesa Ricordo che essere un percorso verticale Che non ha una fine Perché lui ti dice a 263 ti finisce con pianure galattiche Assolutamente no Continuerà all'infinito Perché all'inizio mi diceva che mi fermavo con il 119 Dark Veil In realtà poi è aumentato un sacco Abbiamo poi come segreti extra Report tabellone Che è questo pop up che ci capita Quando entriamo su Monopoly God Dopo un po' di tempo che non siamo loggati Molto particolare, molto interessante Abbiamo poi altri due tasti che vediamo un po' più avanti nel video Prima però voglio farvi vedere le modifiche che sono state fatte a livello di profilo Oltre a aver naturalmente avuto un incremento di patrimonio netto Che è stato dovuto ad un video particolare che ho fatto Lo potete trovare qua nelle schede cliccabili Ho fatto proprio un dadi gratis, soglia profusione Proprio uno di quei contenuti che a noi piace Uno di quei contenuti sostanziali che dite Il vapor c'è entrato giù pesante Ecco ho fatto uno di quei contenuti lì veramente strong Vabbè comunque 11 Entriamo nelle stazioni, facciamo le nostre cose Chiaramente non è cambiato niente invece a livello pratico Io le cose che faccio sono sempre le stesse Mi rendo conto che posso risultare anche un po' monotono alcune volte Ma io gioco così Letteralmente la mia vita è questa E non posso modificarla Mi diverto nel fare queste cose qua E gioco in modo molto molto tranquillo Anche perché come vi ho spiegato un po' di video fa Sono un po' in economia di dadi Che cosa vuol dire economia di dadi? È una sorta di mindset che mi sono messo in testa E ho detto Voglio riportarmi il numero di dadi superiore a 30.000 L'avevo solo, ero riuscito a farlo Chiaramente c'è stata un'occasione particolare Che è stata soldi a profusione Nella quale mi sono trovato un giorno con soldi a profusione L'altro giorno con costruttori in festa Ho detto soldi a profusione più costruttori in festa Capite bene che non va assolutamente bene Devo assolutamente continuare a smartellare Ho smartellato a sufficienza se devo dire la verità O penso di aver veramente dato giù pesante Come non davo da un po' di tempo Chiaramente poi Ci sono i pro e i contro di altre condizioni In questo caso ci stiamo divertendo Nell'andare a sbloccare cose gratuite Nei dadi e robe di questo genere Forza della comunità per noi Da un po' che non lo apro Ho accumulato un 16,6 milioni di plafond iniziale Che naturalmente è un plafond ad incremento Perché dipende poi dalla fortuna che uno ha Nel forziere della comunità Chiaramente più uno ha fortuna Più il monte premi subisce un'impennata Positiva o negativa che sia Cioè questo dipende molto poi dalla fortuna In questo caso diciamo che Torno a casa un po' amareggiato Perché sono stato fortunato fino ad un certo punto Poteva andarmi anche sicuramente molto meglio Se vi devo dire la verità Salti di fortuna va Prendiamo i due ostacolini Ok Interessante questa stazioncina Me la gusto abbastanza 77 milioni e due Benissimo Le tre banconottine Da 51 milioni e 754 mila Alla faccia del bicarbonato di sodio raga Alla facciaccia del bicarbonato di sodio Bene Bene il moltiplicatore così 161 165 milioni E beh non è poco Non è poco Non è poco Andiamo avanti Salti di fortuna Perfetto Altri due Bang 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 Solite facce da dealer Grido mei dei Sono entrato nella banca di Raffaella Ti prego Ti prego Mi escono tre anelli No raga mi sentivo i tre anelli Mi sentivo i tre anelli Ma continuiamo il contenuto che abbiamo iniziato a inizio video I segreti di Monopoli Quindi dopo aver parlato delle prime sei voci di questo tasto segreto Ce ne sono altre due da andare a nominare Il tasto unicity Il tasto unicity che è un tasto veramente particolare perché ti permette di collegarti con soltanto 6 click a tutte le piattaforme di Monopoli Go E funzionano veramente Cioè se io schiaccio via lui mi manda sul sito di Facebook di Monopoli Go E' clamorosa questa cosa lo giuro Non ci credevano anch'io all'inizio ma funziona Vedete Facebook di Monopoli Go Quindi il tasto unicity ha questa funzione un po' particolare di collegamento multipiattaforma Poi da non dimenticare c'è il tasto impostazioni Il tasto impostazioni che ha naturalmente i suoi pro e i suoi contro anche lui chiaramente Ha più pro che contro Probabilmente si Comunque schiacciando il tasto impostazioni ci fa sostanzialmente questo listone Dove possiamo andare a disattivare l'audio, a riattivarlo A disattivare l'emoticon, a riattivare l'emoticon Possiamo selezionare la lingua Possiamo andare a modificare le impostazioni di notifiche di gioco Io ad esempio ho tolto in questo momento tutte le notifiche push Perché per questioni anche di live streaming e cose di questo genere mi viene un po' più semplice C'è poi il servizio clienti che è l'assistenza di Monopoli Go C'è anche su Brawl Stars in questo caso ci aiuta un po' sulle novità Sui problemi noti, sui tornei, sugli eventi, sul gioco sicuro, sugli amici community Insomma un po' su tutto C'è poi successivamente la parte legale nella quale è contenuta l'informativa sulla prizevasi La parte legale vera e propria, i termini di servizio e il non vendere e condividere le informazioni personali C'è poi il tasto gestisce account che ci dà l'opportunità di fare l'accesso con Facebook Di disconnettere il nostro account Apple Di giocare con i contatti e di eliminare definitivamente l'account Queste sono le tre opzioni presenti E tutti i segreti di Monopoli Go sono stati sostanzialmente spawnati in questo video Chiaramente poi ci sono tantissime cose, tantissime persone che non notano la qualità del gioco Ma se voi guardate ogni tabellone ha delle proprie modifiche e delle proprie animazioni Vedete le persone che camminano qua nella parte bassa dello schermo Vedete un po' tutta l'animazione che è creata intorno al tabellone È un qualcosa che io ho cercato di farvi capire in questi ormai anni e mezzo che porto contenuti su Monopoli Go Nella cura del dettaglio di Scopli che non è mai stata messa in secondo piano Anzi hanno sempre cercato di portarla in alto E devo dire nel bene e nel male delle loro azioni Però io mi sono sempre trovato molto bene Quindi GG a Scopli Il video di oggi termina qua Spero che questo video sui segreti di Monopoli vi sia piaciuto Se fosse così like, iscrizione, attivazione della campanella e commento Noi ci vediamo domani alle 14 con un nuovo video bomba Cliccate uno di questi due contenuti che sono uno più bello dell'altro Ciao raga